Lei i suoi studenti li vede, deviso, nel senso che non fate didattica a distanza, questa è la prima cosa che le voglio chiedere, e la seconda che cosa la colpisce del dibattito politico da noi fra perturisti e rigoristi? E di fronte alla sofferenza di tante categorie per la grave crisi economica, la sinistra italiana sta facendo le cose giuste secondo lei, glielo chiedo anche perché so che lei segue con grande attenzione, con grande passione quello che succede nel suo paese, l'Italia. Ma certo, e poi ho anche un'affilazione molto forte con l'Università di Bologna, quindi frequento molto anche i nostri meravigliosi studenti italiani. La didattica purtroppo la facciamo a distanza, però da settembre in poi pensiamo di poter riportare i ragazzi nelle aule per almeno un giorno alla settimana per permettere di vivere una vita seminormale. Tutto dipenderà dalle statistiche, dai dati di fatto. Ed è questa la cosa essenziale che mi colpisce molto nel dibattito italiano, che c'è un rapporto molto stretto fra la politica e una specie di sfiducia nei confronti della scienza. I movimenti no-vax locali italiani sono veramente contro la scienza, o intrecciano la sfiducia verso la classe politica con la sfiducia verso le autorità scientifiche. Ovviamente in questo momento preciso non si può governare senza un apporto massiccio dalla comunità scientifica, quindi nella testa dei populisti in generale tutto questo diventa una specie di complotto con le elite che in un certo modo sarebbero ad ingannare i poveri cittadini. Questo succede molto di meno in Olanda. La resistenza no-vax è una resistenza di stampa molto più protestante, se potrebbe dire calvinista. La gente ha paura di perdere le libertà individuali. Questo è un paese in cui non si impongono neanche le carte di identità, figurarsi dei controlli più stretti. Quindi è un altro tipo di rivolta e più al nord si sale, penso ai paesi scandinavi, più l'aspetto antiscientismo scompare. E appare invece un populismo molto più di stampo individualistico. Ma la sinistra italiana le sembra attrezzata per fronteggiare tutto questo scontento delle varie categorie economiche in Italia? Guardi, la sinistra in Italia come in Olanda ha grandi difficoltà in questo momento a fare il lavoro che andrebbe fatto, che è un lavoro essenzialmente di istruire, informare, prendersi cura e sostenere. Sostenere anche economicamente le classi che stanno soffrendo duramente. L'ha detto giustamente il Presidente Draghi, qui si tratta di fare di riforme molto profonde e molto dirette. E ho l'impressione che ci sia un distacco fra la sinistra, in questo momento anche qui in Olanda, e la gente. Le ragioni sono molteplici, ma nelle ultime elezioni onandesi, come in realtà in Italia, si nota che l'agenda politica è veramente nelle mani della destra. Come istruire, informare, prendersi cura e sostenere? Io credo che la politica quindi non sia né di destra né di sinistra, deve essere molto vicina alla gente e molto presente. E questo è difficile. Si potrebbe anche chiedere dov'è la sinistra in Italia. I miei studenti mi dicono che non c'è più, perché loro sono così. Io dico guardate un po' di più, guardate meglio, cercate un po' di più, la troverete sicuramente. Magari vestita da verdi. Gli dia un microscopio. Con la letta. Ci siamo, ci siamo, ma è che siamo in crescita, stiamo mutando in una forza diversa. Sono un'ottimista patologica, signora Gruber. E allora sì, questo richiederebbe ore di dibattito, ma avremo molte altre puntate di 8 e mezzo. Però voglio...